Ciao 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 amiche siamo qui per l'estrazione del giveaway che è stato chiuso oggi alle ore 9.30 infatti se leggete qui giveaway chiuso eccoci qua adesso procediamo all'estrazione della vincitrice tac vado a copiare l'id vado a copiare l'id tranquillamente tac e poi vado in suadeo che è questo motore, diciamo non motore di ricerca è un sito che permette di fare un'estrazione random attacco qui in collo, scusate, qui il numero e le lettere cioè l'id e poi seleziono un singolo commento cioè anche se avete fatto 500 commenti avete le stesse chance di vincere della persona che l'ha messo uno solo e poi qui lo skates rullo di tamburi e via Sofia del piano benissimo, carissima Sofia hai vinto sono felicissima che tu abbia vinto il mio giveaway ti faccio tanti tanti auguri e complimenti perché sei stata la vincitrice allora hai una settimana di tempo per metterti in contatto con me io ti contatterò anche e tu dovrai mandarmi ovviamente il tuo indirizzo in modo che io al più presto possa spedirti i prodotti un bacio a tutte le altre partecipanti ragazze mie, belle non siate tristi perché già sto preparando altri regalini per voi che però questa volta saranno regalati non con un giveaway cioè nel titolo non ci sarà scritto giveaway ma ci sarà scritto regalini o cose del genere o un video sorpresa quindi un bacio a tutte quante ancora tanti complimenti a Sofia del piano e al prossimo video ragazzi grazie a tutte le nuove iscritte e grazie a tutte le persone che mi seguono